Sia lodato Gesù Cristo, carissimi amici, a conclusione del rosario che abbiamo voluto offrire a nostra madre, ma il rosario noi lo offriamo più che altro con la forza dello Spirito Santo, lo offriamo al Padre per che Gesù, suo figlio, ci possa ascoltare e attraverso le loro lacrime, i loro sacrifici, il loro dolore, possano aiutarci, guarirci, illuminarci, ecco fare sentire dentro di noi che loro non ci abbandonano, ci sostengono. Oggi celebriamo il matrimonio di Giuseppe con Maria, adesso questa statua tra poco non ci sarà più e sappiamo che sta per arrivare un'altra statua di San Giuseppe perché? Perché sentiamo, ecco siamo stati illuminati su questo aspetto, sentiamo che San Giuseppe ci accompagnerà durante il corso, non solo di questo anno, ma ecco più che altro abbiamo bisogno della protezione sua, visto che stiamo entrando in questi ecco sette anni che ci condurranno verso questa data un po' particolare del 2030, un decennio difficile caratterizzato da tantissime tantissime prove che insieme a San Giuseppe siamo certi, sicuri di poter affrontare. Vogliamo prendere proprio spunto da questa festa per ricordarci che la celebrazione della realtà del matrimonio loro si fonda sulla fede e la fiducia in Dio. Tutto quello che Giuseppe e Maria accanto al figlio di Dio dentro la loro famiglia ha comunicato, loro l'hanno sempre preso con un'espressione di massimo abbandono. Non sappiamo quanto Giuseppe fosse consapevole fino a che punto di che tipo di missione ecco egli doveva assolvere. Certo è che Maria mano a mano che è stata come dire sempre di più, sempre di più ecco, collocata nel grande mistero di Dio, Maria come immacolata concezione ha avuto il dono della prescienza che non è la stessa cosa dell'onniscienza ma è una caratteristica simile, cioè Maria Santissima intuiva con non una logica umana evidentemente con il suo sentire puro senza macchia tutto quello che era il cammino da fare accanto a Gesù, quindi con redentrice da sempre durante e per sempre la fase della storia dell'uomo. Da questa famiglia verranno tutte le famiglie che in loro vogliono come dire concepire nel cammino il mistero di Dio. Molte persone però fanno questo piccolo errore guardando alla loro santità un po' si ha questa remora di non sentirci all'altezza e quindi pensiamo che gli episodi che sono caratteristica della loro espressione di vita non assomigliano alle nostre e per questo abbandonano subito l'atto della fede e dicono ma loro erano santi e quindi sono riusciti a comprendere e a realizzare quello che Dio voleva da loro ma sebbene dobbiamo dire che la madre è conformata al figlio in virtù del fatto che era Dio quindi abitandola e coabitandola la resa partecipe volente o nolente di questa divinità in una proporzione diversa da come saremo partecipi tutti noi ma Giuseppe non era come Maria Giuseppe non era affatto santo Giuseppe si era un giusto come ci raccontano appena alcuni stralci del nuovo testamento Giuseppe era un uomo che seppe fare della giustizia un suo decalogo personale quindi non ha preso sotto gamba il fatto che ogni cosa che lui avesse fatto in coscienza e con coscienza sarebbe stato un passo in più verso la santità dunque Giuseppe avrà commesso gli errori più o meno uguali a quelli che commettiamo noi nella misura in cui questa spiritualità che stiamo costruendo come il famoso castello di cui parla ma non solo Teresa Davila ne parla anche Giovanni della croce ne parleranno diciamo così tutti quelli che nel docere di Dio si sono abituati all'espressione della del camminare nell'illuminazione che cosa allora i grandi santi hanno scritto della loro famiglia che erano sempre in ascolto di Dio di essere in ascolto di Dio è una prerogativa della persona convertita o meglio che sta facendo questo esercizio nel cammino della conversazione quindi non c'è nessuno che nasce santo se non Dio stesso e quindi abbiamo tutti il dovere il compito di fare questo cammino di sbagliare di cadere e gli insuccessi non devono sembrarci delle formulazioni che ci ostacolano alla grazia di Dio anzi li dobbiamo vedere caratteristica di Dio di questa palestra dentro cui il Signore ci forma ci accompagna e certe volte ci spinge quando Dio ci chiama all'esercizio delle virtù vedi tutte le virtù no vedi la speranza la carità eccetera signore vuole che siamo forti magari fossimo come leoni qualche volta lo siamo come gattini ma l'importante non è graffiare gli altri nella misura in cui noi non riusciamo a stare appresso alla grazia di Dio ma graffiare la nostra natura umana e al contrario cioè in questo cammino verso il cielo sempre con una introspezione cioè signore cosa vuoi che io faccia signore aiutami a non cadere nella disperazione di me stesso ci sono tante attribuzioni della disperazione sono le persone disperate ci sono tanti volti della disperazione la disperazione può essere uno che si è abbandonato all'alcolismo la droga i farmaci che ha smesso di sognare si è reso il disperato chi è colui che non ha più nulla davanti come progettualità e allora perché non ha questo coraggio di continuare a scrivere a disegnare comincia a implodere e quindi a covare nel suo cuore odio rabbia invidia fino a che poi con la fonte dell'aggressività che c'è in ciascuno di noi cosa fa quello che è triste e depresso comincia a sconfinare nelle terre degli altri fino a pilucare dappertutto e rovinare gli altri allora la madonna insieme a san giuseppe ci invitano a fare questo cammino nella salvezza con questa consapevolezza che la disperazione appartiene a coloro che hanno smesso di credere è vero e prendiamo un spunto da ormai l'anno iniziato come iniziato e abbiamo visto che già il primo dell'anno è iniziato un terremoto ma questo non ci deve spaventare non ci deve essere di scoraggiamento a che queste cose che accadono e che accadono perché la terra sta compiendo anche diciamo a livello geografico il suo tempo sta compiendo un ciclo e ne sta iniziando un altro perché è importante parlare di questo senza dovere mischiare come purtroppo fanno tanti anche cattolici cartomanzia e astrologia con spiritualità e spiritualismo no non la realtà dei pianeti delle stelle sono stati fissati da dio quindi loro in un certo qual modo nella loro attività influenzano la nostra esistenza perché noi siamo all'interno di questo cosmo e si dice che quello è il grande il macro cosmo e noi si riflette tutto il cosmo quindi noi siamo il micro cosmo nell'essere umano come le stelle i pianeti sono fissati nel fermamento così noi abbiamo nel nostro corpo umano il cuore gli organi le vene le arterie eccetera quindi tutto quello che nel nostro organismo compone la realtà umana si fuori tutti questi che sono altri organismi evidenti compongono la realtà materiale dell'esistenza quindi quando sentiamo che ci sono tutti questi fenomeni dobbiamo capirli senza interpretarli ma i messaggi ci danno una mano perché io voglio dire questo perché quanto si è detto fino ad oggi che le apparizioni perlomeno le vere quelle credibili perché attestano con la loro realtà storica e poi con il profetismo che le appartiene attestano di essere tali raccontano che i profeti soprattutto della generazione ultima chiamiamoli così profeti moderni serviranno assolutamente e vedrete che a breve quanto era stato calpestato e disprezzato diventerà assoluto ed imperante dunque senza i profeti non si potrà camminare perché si addenserà talmente il fumo che non si sarà più in grado di poter penetrare il mistero che di oggi vuole a gloria di maria santissima perché quando si è compiuto il grande peccato contro lo spirito santo cioè di averle relegato le apparizioni in un contesto fuori dalla salvezza cioè come se fosse un episodio di una telenovela che non appartiene a tutto come dire il programma pensando che le apparizioni della madonna fossero una come dire un qualche cosa un cavillo del capriccio di dio e quindi non appartenente a quanto è la rivelazione che intanto molti dichiarano essere finita la rivelazione non è finita la rivelazione è in compimento allora nel verbo italiano finire vuol dire che non c'è più altro da scrivere e questo è un errore anche di tipo domatico perché se vogliamo dire che tutta la rivelazione ha già in sé quello che dobbiamo sapere è un altro fatto allora quando ci spieghiamo con i verbi dobbiamo stare attenti a non sbagliare e a non tramandare questi errori per generazioni intere perché dio non ha finito anzi Gesù stesso ci dice che quando arriverà un certo tipo di tempo molte di quelle cose fino alla fine del mondo tutte le cose saranno comprese quindi ad oggi noi non abbiamo che compreso pochissimo sia di quello che è in noi che di quello che è l'apparato del mondo intero anche di tutte quelle cose che non abbiamo ancora appunto non solo conosciuto ma neppure esplorato dunque siamo in una fase storica di grande cambiamento ed è per questo che giustamente la terra partecipa nei messaggi noi capiamo che il signore sta facendo coincidere il tempo della purificazione e della tribolazione con questa esplosione della natura però cosa accade praticamente nel nostro mondo che si è spostato semplicemente il nucleo della terra quindi essendosi spostato perché a causa dei nostri peccati l'asse della terra si è spostata la terra fa questo giro che seguendo un'orbita particolare forzata e forzata e forzosa giustamente sta scatenando una serie di avvenimenti anche quest'anno ce ne saranno tre forti e terribili saranno tre terremoti che si saranno evidentemente saranno ricordati per la storia dell'umanità perché saranno 20 30 volte quelli che non sono già accaduti negli ultimi 10 anni ma non solo ci saranno tsunami tra cui uno in particolare talmente forte che varrà 10 volte quello che è accaduto 4 5 anni fa dunque tutte queste espressioni noi le dobbiamo vedere collocate in questa sofferenza nella terra che viene accanto a quelle che dall'apocalisse 12 e 13 è la rappresentazione di questa lotta ingaggiata con il potere delle tenebre satana il padrone del mondo perché l'uomo gli ha tributato il massimo degli onori e non è un caso che proprio quest'anno l'ordine mondiale verrà fuori con tutta la sua potenza quindi cominciamoci abituare a sentire chi sono quelli e che sono questi altri adesso la spaccatura è netta non ci sarà più bisogno di andare a decifrare alcune componenti di discorsi perché oramai quest'anno verranno fuori con tutti i loro programmi intenzioni e sicuramente decisioni un applauso agli agricoltori agli allevatori che ancora ancora però devono essere più forti devono avere più coraggio e devono spingersi ancora con più forza non dico violenza ma forse a quello ci dobbiamo arrivare perché non è possibile che il programma scritto dai figli del demonio dai cosiddetti poteri forti sia il nostro programma non è possibile che l'umanità debba rendersi solo perché 10 15 elementi dell'universo grazie ad un establishment che li paga li sommenziona debbano determinare quello che devono fare le generazioni come devono vivere come devono mangiare e quello che devono determinarsi allora ci ritroviamo ormai in una società dove è chiara la bandiera che ha levato sul cuore del mondo una società in cui la famiglia non deve esistere ma deve esistere la coppia di fatto la sessualità deve esistere ma solo in virtù dell'espressione dei desideri personali quindi adesso ti pagano non perché tu possa stare bene ma ti pagano perché tu faccia la transizione sessuale allora se un gay vuole diventare di nuovo eterosessuale nessuno ti pagherà mai ma se tu vuoi diventare gay loro ti pagheranno e allora voi capite cari amici in un momento in cui si proclama che dobbiamo rinunciare a cibarci mentre il cibo che ci vogliono propinare sono gli effetti calamitosi di ingerire sostanze come quelle che potete immaginare no perché se noi dovessimo mangiare per dieci anni questa schifezza di roba che loro da un lato sinteticamente ci propongono da un altro lato vedi insetti vedi tutto quello di cui si sta parlando poi sapete che il nostro sistema immunitario in una maniera o nell'altra crollerà perché noi non siamo come apparato parlo di quello umano in grado di poter digerire quindi sintetizzare tutte queste cosiddette proprietà di cui loro vorrebbero partecipare quindi questa è la caratteristica del depopolamento che loro hanno messo in agenda la terra si deve ridurre di parecchio dobbiamo essere pochi giusti che devono lavorare senza ricevere nessun compenso allora vedi reddito di cittadinanza adesso mano a mano che è stato tolto più avanti vedrete che comparirà il reddito universale piano piano ti sarà tolto tutto quello che è normale quindi siamo entrati definitivamente nel cosiddetto compasso della massoneria cioè quei 360 gradi svelati quando ci si chiede cari amici attraverso i messaggi della madonna che non parlano solo di preghiera di spiritualità di digiuno anche se sappiamo che queste sono le armi a noi in particolare a manduria ci ha parlato di tutta la riparazione monocaristica qui dopo riprenderemo anche questo aspetto ma io intendo farvi capire che da quest'anno in poi non si scherza più perché se sbagliamo un solo momento della nostra giornata che viviamo senza affidamento e cominciamo a sbagliare qui si cade nel fosso sia a livello fisico che spirituale quindi le malattie sono pronte ci sono voi sapete che a manduria la madonna già ha parlato negli anni scorsi di prossima epidemia sappiamo che quest'anno è stato presentato già il piano pandemico quindi loro vengono dopo i messaggi della madonna si parla del virus x noi sappiamo già quello che sarà e che cosa porterà quindi avanti avanti con questa agenda in cui è chiaro un po' si muore per guerra un po' si muore per fame un po' si muore per malattie alla fine si decima si decima si decima si decima si decima il problema di dio è non è soltanto la vita in quanto tale ma come noi siamo capaci di vivere come giuseppe e maria hanno fatto cioè quel pezzo di vita farlo nella volontà di dio perché voi capite che se noi ci fissassimo su quello che è il la grande menzogna del demonio e noi saremo dei depressi ci butteremo dai ponti e lo stanno facendo perché le persone più fragili lo faranno giorno dopo giorno vedrete una moria di gente che si picca si butta sotto i tre perché chiaro mancando la forza del sangue di Gesù dello spirito santo satana come fa con noi che preghiamo da più di trent'anni non farà con quei poveracci perché perché cari amici non si scherza col demonio lo abbiamo detto milioni di volte satana adesso è forte e se prima era scatenato adesso c'è bisogno di una forza interiore veramente da soldato ed è difficile che un soldato riesca a resistere nella guerra se non fa uso delle armi giuste altrimenti capiriamo come i poveracci i soldati ucraini che pur di scapparsene da quella come dire storia assurda di questa guerra terribile no e si vanno buttando dappertutto fino a stanno chiedendo alla russia di riannetterli nei territori russi per scappare da questa follia perché quella è stata una follia come una follia l'inizio di questa guerra mondiale che è vero che sta iniziando in Medio Oriente ma cosa volete cari amici se inizia lì non vuol dire che lì si esercita la guerra la guerra iniziala ma la la guerra si farà qua e quindi chiaramente voi capite che il mondo si è già strutturato questi ultimi anni che ci porteranno fino a dove la Madonna giustamente conclude con la sua promessa cioè il suo cuore non solo trionferà ma si stabilirà il regno sociale di Cristo di cui non dobbiamo stancarci di avere grande fiducia e passione nel dichiararlo agli altri perché i cattolici hanno una marcia in più perché non appartengono ad una delle tante religioni monoteiste sono la religione fondata sul sangue del suo fondatore gli altri delle altre religioni chiamiamole il buddismo chiamiamole dell'islam si sono tutte formate dopo la venuta di Gesù Cristo quindi voi capite che se da un lato abbiamo avuto dei filosofi che hanno fondato delle teorie da un altro abbiamo avuto uno che era Dio e non ha fondato la religione su dei concetti ma sul suo sangue spazio di diverso quindi noi avendo ricevuto in dono l'eocarestia noi restiamo resteremo la religione perché Cristo è operante e guaritore nell'eocarestia quindi ciò che accade accade e sarà quindi in questo divenire della storia non dobbiamo avere paura nel lasciarci trasportare da tutti questi inganni riprenderemo meglio poi nel corso di quest'anno quali sono le sberlone che ci devono arrivare ma se dei sempre perché ci servano a comprendere che bisogna essere uniti e compatti nella verità perché se ci cominciamo a perdere tra i giudizi i propri sentire le proprie ideologie voi capite che già è tutto sgretolato noi non costruiamo nulla è come quando Gesù dice e perdona con il dito sulla sabbia quelli che stanno sulla stessa sabbia dei peccatori che vogliono giudicare ma pretendono alzare le mani e le pietre contro gli altri allora chi è senza peccato scagli la prima pietra allora capite che il mondo essendosi adesso sono strutturato in due grossi blocchi non vi meravigliate se la russia dopo sto gran casino sarà chiamata santa russia e non meravigliatevi se la colonna di pietro scadascerà giù quindi basta 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 con quelli che danno in testa i papi con quelli che danno in testa ai peccati del vaticano con quelli che danno in testa a tutti perché a noi stessi dobbiamo cercare la strada della conversione perché se ci dobbiamo avvicinare a questo avvertimento di cui il mondo ha rotto le scatole lo ha chiesto almeno un milione e mezzo di volte come fai tu fratello e sorella arrivare all'avvertimento con questa camicia con questo abitus del giudizio della non concretezza di avere capito che dio sta permettendo tutte queste cose al fine di far fare il ciclo all'umanità della scelta aspetta a noi scegliere e non certo lo scandalo degli altri ti travolge se tu non lo vuoi usciamo dall'impasse di questa grande falsità che sono gli altri che ci spingono a cadere ricordiamoci che maria e giuseppe sono invitati costantemente dagli angeli a scappare ad andare ad uscire a fare una serie di azioni che sembrano umane ma sono anche spirituali perché a un certo punto giuseppe avrebbe potuto dire beh io mi sono stancato di scappare da una parte all'altra questo essere profughi la vita di gesù e maria sarà tutta all'insegna dell'andare del venire del fare del costruire del piangere ma anche del gioire e vivono di questa vita costantemente loro con un'unica fiducia guardare al padre anche la vita privata cosiddetta la vita di gesù fino ai trent'anni di cui poco sappiamo ma ci sono tanti diciamo così vangeli apocrifi che la chiesa ha messo non tanto al bando ma non li ha ritenuti usarli perché nel corso del tempo si sono pure arricchiti di tante storielle che poco attenevano alla realtà più vicina di cristo tipo per esempio che se i bambini costruivano dei giocattoli gesù li animava cioè non appartiene a questo stile a una cosa del genere difficile che gesù avesse fatto una roba del genere però per esempio c'è il cosiddetto protovangelo di Matteo che o di Tommaso scusate che parla di tutti questi avvenimenti ok ma tolto questo sappiamo che la vita di gesù è stata la vita di un ragazzo normale sappiamo solo che è stato un carpentiere quindi ha lavorato ha lavorato con il padre avrà lavorato con altri falegnami quindi la sua vita è stata l'insegna dell'obbedienza di questa famiglia cioè in questa famiglia ha esercitato tutto quello che doveva fare quindi la divinità è anche un fatto di orizzontalità lui è dio ma in questa famiglia lui permette desidera che questo amore sia circolare l'amore di dio quindi vedete non per forza i miracoli determinano le grandi cose di dio anche i miracoli quindi la vita di gesù è stata una vita di un ragazzo normale ha studiato ha lavorato ha giocato ha cantato aveva sappiamo che aveva anche degli animaletti ha avuto degli animaletti in casa che gli abbiano fatto tanta compagnia quando è arrivata l'ora ecco che con un bravo figlio ha accompagnato giuseppe a salire al padre e si è stretto a sua madre ed iniziava la fase più forte come inizierà la fase forte per noi quindi ci dobbiamo stringere forte forte la madonna e dobbiamo dire che se è vero questo 2024 sarà un anno di preparazione sappiamo anche che da qui in poi è iniziato anche l'orologio del cielo quindi adesso orecchie e occhi aperti perché tutte le date cominceranno a farsi avanti tutto quello che abbiamo aspettato nel corso di tutti questi anni cominceranno piano piano ad avvicinarsi verso di noi ma a quale spine al fine che crediamo e ci salviamo allora è chiaro che anche grandi avvenimenti come le calamità non cambiano il cuore dell'uomo anche i grandi miracoli non cambieranno il cuore dell'uomo la madonna lo sa e sa anche quanti ne moriranno quanti non moriranno e di quelli che resteranno in vita purtroppo quanti non vorranno accogliere è lì che entra la missione nostra personale non di avere questa presunzione di salvare nessuno ma almeno di salvare noi stessi di avere questa capacità di fare un patto con Gesù signore dammi la forza di di riuscire a salvare me stesso di riuscire a creare stare in una famiglia dove nonostante le difficoltà spesso in famiglia cosa accade accade di tutto in famiglia perché adesso il demonio avendo distrutto tutto intorno è chiaro che la guerra l'ha proclamata all'interno della famiglia questa è una delle cosiddette opere finali con cui ti deve portare alla disperazione quindi se è vero che quest'anno è l'anno dei più grande dei cidio dei bambini perché i bambini ne soffriranno tantissimo è chiaro che il satana si rivolge direttamente alla famiglia per distruggerne il concetto massimo della sacralità quindi non sposarti ma convivi non accettare la vita ma uccidi quindi le persone nella famiglia cominceranno a avvolgersi sempre con massima più violenza l'intenzione della madonna di entrare dentro queste ormai difficili realtà familiari attraverso i focolari di preghiera la grande opera di salvezza di maria perché se la madonna riesce a penetrare il cosiddetto terreno familiare e la famiglia inizia a ritrovarsi nella lode in preghiera satana viene messo al bando non ha più la stessa forza di prima e se prima poteva scatenare la guerra e dopo la guerra la violenza in quel momento attraverso la preghiera l'azione di satana comincia ad essere sempre meno forte e quindi vince l'atto della solennità di maria che consacra quello spazio perché quando noi parliamo di realtà perché siamo esseri che vivono dobbiamo pensare che la realtà che vive la nostra è sul piano materiale ma poi quella che portiamo dentro è sul piano spirituale e in mezzo a tutto questo il piano spirituale del male è eterno come bene sappiamo è il nostro eterno nemico quindi lo sviluppo della santità nella famiglia dipende anche da quanto noi come celebra la preghiera del padre nostro chiediamo a dio aiutaci di non cadere in tentazione se noi riusciamo a non entrare in tante tentazioni noi ci siamo salvato metà delle tentazioni perché l'azione del malvagio colui che da sempre ci spinge per cadere ci offende davanti al padre e da cui ha ottenuto anche questo tempo perché l'uomo sia tentato per lunghezza misura e profondità è importante per noi dare nella nostra casa la giusta benedizione perché quello spazio sia uno spazio consacrato questo è che non si vuole e non si riesce a capire la gente vive come una mandria di bestie le famiglie sono diventate un autentico inferno dove c'è uno scannatoio senza fide dove esiste solo mangiare fare sesso divertirsi e come dire sostituire tutte quelle cose che ci fanno del male ci fanno soffrire sostituirle con cose puramente materiali e quello l'ingresso primario del demonio ecco perché la madonna ci invita al digiuno al contrario di chi dice ma mangia non preoccuparti perché tanto ecco non abbiamo altro che mangiare e divertirci ma io so che molta gente dice la forza di divertirci e fare questo ci troviamo ciccioni e poveri quindi alla fine tu dovrai comunque lottare combattere per questa realtà che ti deve far conquistare la tua identità allora i nostri bambini che ci sono affidati hanno necessità di una sana conduzione ma nel momento in cui i bambini non sono condotti come si deve avremo una generazione peggiore di questa ed è chiaro che la madonna intende anche qui inserirsi perché questo processo di morte di fango deleterio di assoluta come dire ombra tenebra si interrompa con la luce dello spirito santo quindi saremo destinatari di tantissime grazie i segreti finalmente si sveleranno potranno essere detti ma molti pensano chissà cosa possano essere questi benedetti segreti alcuni potrebbero pure deludervi perché non è niente di tanto eccesso ma di cose che però di cui abbiamo bisogno ma oggi oggi già adesso sappiamo tante cose forse abbiamo cambiato la nostra direzione molti di noi vivono peggio degli animali nonostante si vada in chiesa nonostante si pratichi col sacro l'effetto che vediamo nella sagrestia è lo stesso esempio di quello che sta nell'ambone nell'atrio nel cuore della chiesa Dio sta permettendo che si veda l'altra parte di questa medaglia cioè come se fossimo posti davanti uno specchio quindi se noi siamo stati così perversi così lo sono i nostri sacerdoti che sono stati lo specchio del nostro vivere la fede come abbiamo inteso praticare noi cattolici la fede l'abbiamo intesa secondo la cultura del mondo è evidente che se questo modo di vita ci ha appassionato e Dio adesso deve cambiare questo andamento della storia ma soffrì dobbiamo piangere e non solo dovremo piangere ma si spargerà tanto sangue purtroppo sempre inutile e innocente si dovrà spargere perché l'uomo non vuole costruire la pace vedete questo programma dei cosiddetti grandi poteri che vogliono detenere il mondo e di fatto ce l'hanno perché se non lo avessero attraverso i soldi le loro complicità non sarebbero riusciti ecco a realizzare quello che hanno fatto adesso andremo persino su Marte non a costruirci le case peccato che ne abbiamo qua sulla terra ma non vogliamo aiutare la nostra terra ma preferiamo andare a costruire una vita laddove è impossibile vivere ma di questo fallimento filosofico umano si spingeranno talmente oltre che vedete loro hanno messo in programma non è un popolo contro un altro che vuole la guerra è proprio questo impero globale che vuole la guerra e sapete come ci arriveremo molto facilmente e talmente in programma che già loro hanno destinato come arrivare la guerra si fa quando i soldi sono finiti i soldi finiscono quando io ne comincio a stampare tanti inutilmente che mi aiutano a foriggiare le guerre prime guerre satelliti che mi condurranno alla grande e quando comincerò non a stamparli più a cominciarli a produrre e non esisteranno perché saranno digitali e allora tu non avrai il potere più su niente non ti potrai comprare neppure un calmante per farti passare i nervi a quel punto avremo fame niente soldi e andremo siamo e stiamo entrando nella guerra finito ci vuole tanto a capire qual è il programmino che si sono fatti questi signori lo diciamo da tantissimi anni ora occhio amici che in mezzo a stefattarelli però si sta consumando la tragedia delle nostre generazioni e la chiamata che dio sta mandando all'italia care italia tu pagherai che non sai manco quanto e le notti dei provvedi che hanno fatto venire non il sangue agido ci hanno fatto venire i calcoli ci hanno fatto venire il bruciore allo stomaco abbiamo avuto tutte le malattie possibili perché come si fa a condividere una vita con storie di questo tipo quando tu ti proietti sei proiettato in una realtà che non puoi immaginare se la vivi bene se vivi in grazia di dio ma te la vivi comunque male d'essere umano bene benvenuti 2024 pure voi sarete spettatori di questi filmetti di questi antichi sogni che si facevano i vari san giovanni bosco e tutti gli altri perché io vi dico quest'anno come fici l'anno scorso a gennaio questo perché ciò che sentirete vi raccontare non turbi il vostro cuore perché queste cose devono accadere e deve accadere semplicemente perché la verità è dirompente non si può più tenere in questa fase di cambiamento siamo no a 24 milioni dalla nascita della terra quindi si dice che ogni 12 milioni accadono quest'anno è un anno forte perché vedrete in questo cambio anche il sole farà il suo effetto infatti molti temono che a causa del sole queste tempeste solari il magnetismo della terra sbalestrerà ancora di più sì è vero è normale perché se 2 più 2 fa 4 è chiaro che ci saranno dei mesi in cui la cosiddetta rete internet e quant'altro se ne andrà a capo all'aria è normale perché ci saranno una serie di interferenze in quanto 24 milioni di anni fa o 12 milioni di anni fa non era la terra così tempestata di una rete come quella di oggi quindi voi capite che anche se accadessero e accadranno i grandi segni di cui la madonna ci va noi dobbiamo pregare perché non immaginiamo la catastrofe perché prima i cieli erano vuoti adesso sono pieni e quindi quelli che pensano che i grandi segni di dio se li vedranno distesi sul salotto come fossero davanti alla televisione non hanno capito niente perché saremo testimoni ma nessuno di noi potrà come dire non essere leso in qualche modo da tutto questo lasciamo perdere tutto quello che deriva poi dal fanatismo della gente che sono 40 anni che mettono da parte cibo in previsione dei giorni di buio c'è gente che c'è morta che hanno le cartine piene di cibo nascoste perché quella è la cattiva evoluzione di una fede immatura anche il popolo di dio che fa il suo giro vedete oggi quel giro che facevano il popolo di israele lo continua a fare lo continuerà a fare perché israele adesso è chiamato da dio è appellato in prima persona o israele cambia o israele verrà distrutta e quando dico ora è arrivato il momento non lo dice manduria non lo dico nelle apparizioni di questo secolo ma lo dice persino la sagra scrittura che il tuo tempio gerusalemme io lo distruggerò quindi voi abitanti che sarete cinti alla fine dei tempi che evidentemente vi ho già spiegato mille volte è una parte di fine di tempi ci saranno altre fine di tempi ci saranno altre attività del demonio perché abbiamo questa promessa della madonna che durerà ben mille anni la madonna ha promesso quindi se ha promesso questi mille anni non viene la fine del mondo c'è qualcuno che sa anche quando finirà questo mondo quasi la cifra perfetta diciamo quasi perché l'ora giusta è dio che la sa ma quelli a cui dio parla dio rivela questo perché abbiano e insegnino con la dovuta umiltà che abbiamo davanti ancora una grande prospettiva di mondo quindi è necessario che i quattro cavalli dell'apocalisse oggi facciano fare all'essere umano una esperienza simile a quella che giustamente giovanni descrive non è finale dunque quelli che parlano l'anticristo siederà qua sono tutte speculazioni di pazzi di gente che cambia la parola di dio io continuo a dire guai a voi che fate ste robe qua perché vi assicurate intanto un lungo purgatorio di cui è meglio e sarebbe meglio non anche no e poi anche questo errore continuare a diffondere gli errori alle persone perché lì l'anticristo in quanto tali come persona umana lo vedremo solo alla fine prima che il mondo termini di esistere non adesso ma questo non vuol dire che non avremo un'attività speciale di uno dei satelliti degli anti dell'anticristo perché l'anticristo sappiate in tutta la storia ne avrà dieci corna più una così si legge la parola di dio e quindi dio ha destinato che ogni tanto tempo ce ne sia qualche d'uno che somminisse al popolo una tale sofferenza non è un caso che non da roma da prima di roma abbiamo avuto presenza di uomini veri demoni allora la presenza dell'ordine mondiale che è ispirato da satana e sappiamo che chi ne partecipa è con un patto di sangue suo satellite non vuol dire che siano uomini che non moriranno anche loro faranno la loro parte e la loro fine ma questo non vuol dire che sono i figli dell'anticristo saranno una parte dell'esercito dell'anticristo e l'anticristo come lo è stato Hitler come lo è stato Napoleone come lo sono stati tanti di questi uomini anche adesso sta per fare il suo ingresso e dritto dritto dalla viappia arriverà quando a breve in questi giorni e voglio concludere lo voglio dire a coloro che sentono all'Italia che fa finta di non capire l'Italia è già entrata in guerra sapete perché perché non si dice non si vuole dire alle persone tanto tra poco sarete chiamati i mascolini ma anche le femmine alla cosiddetta leva cari amici non ve lo dicono ma ve lo dico io quindi tra poco ti chiameranno a fare cosiddette esercitazioni e vi diranno dato che il lavoro è finito venite che qui occorre un bel esercito da formare e quindi inizierà questo tipo di inizio di eh per sovillare il popolo e quindi molti diranno beh perché no visto che il lavoro manca mandiamo i nostri figli ecco i nostri figli che saranno la futura carne di macello dove vedrà poco l'Italia ha già affermato l'Italia scende in guerra contro lo e da lì verrà e da lì verrà cara Italia tu in questi giorni hai firmato la tua contanna a morte l'hai firmata con le tue stesse mani attraverso quelli che ci governano a me dispiace forse questo non era il peggiore di tutti i governi ma purtroppo lo stanno firmando loro e quelli che dicono che questo non è vero perché diranno che noi come costituzione italiana non facciamo la guerra a nessuno e certo diremo la solita chiacchiarella che andiamo a fare la pace mentre invece sappiate e dobbiamo saperlo che un soldato con la paionetta e uno fucile a mano non può fare la pace cari signori è chiamato stando nel fuoco a dover usare i fucili le bombe per potersi difendere e siccome dice che l'Italia no abbiura la guerra noi vedremo come invece l'Italia sarà parte centrale e bruscheremo in una maniera incredibile perché l'Italia dovrebbe adesso tirarsi fuori da questo inganno e ascoltare il sacro cuore di Gesù che dice vai fuori dall'Europa perché l'Europa ti ha fatto schiava chiaro che l'Italia non ha lo stesso destino della Francia e della Germania Giovanna d'Arco qua è apparsa 30 anni per dire le strade italiane saranno bagnate di sangue come quelle francesi e in un solo destino noi cugini andremo verso il nostro morire. Allora cari amici cerchiamo di fare una sintesi io inizio a gennaio scusatemi se mi sono dilungata ma perché desidero come ogni volta farvi entrare nel cuore della storia e sapete che la storia è fatta di politica di economia altro grande tema sarà che tra settembre ottobre voglio vedere questi signori del petrolio che faranno perché andremo ad una grossa diminuzione e quindi questo comporterà la crisi nella crisi e quindi scendiamo belli belli dentro il 2025 come si dice col culo rotto e senza mudande e allora in quel caso saremo ancora più schiavi allora è giusto Gesù ci dice adesso combattere sul piano umano quello che occorre combattere come hanno fatto i nostri nonni che hanno combattuto per carità e l'Italia unita è stato il più grande dei flagelli perché in primis l'Italia non è stata mai unita quindi l'idea mazziniana era un'idea massonica secondo ancora gli italiani non hanno capito di che pasta sono fatti infatti non è un caso che sono sempre gli ultimi fanalino di coda a capire arrivano tardi e pensano che anche questa volta gli altri gli facciano le guerre per loro quindi indifferita ma i cari italiani sappiano che adesso sotto al culetto accende un grande fuoco che è un fuoco comune a tutti allora anche in quest'ora sentire alcuni che dicono ma io devo viaggiare quindi non possono bloccare le autostrade ma gli agricoltori gli allevatori stanno facendo la lotta per te perché se tu non allevi se tu non coltivi no food niente mangiare quindi tu italiano eh che rispondi così e dici ma loro non hanno diritto di bloccarmi la strada vergognati e sappi che quella gente lo sta facendo per te è chiaro che gli effetti della globalizzazione hanno reso ignoranti anche i nostri cervelli perché abituati ad avere il cibo che ci viene da tutte le parti la gente che dirà a me non interessa il cibo italiano e già infatti noi oggi schiacciamo le arance siciliane per importarcele dalla Tunisia abbiamo visto come la nostra Puglia e tante altre regioni sono state uccise dalla xylella buttate in aria dalle ditte farmaceutiche perché questa regione deve servire per quella guerra noi siamo basenato e loro vogliono ridurre questa regione e pulirla ecco perché per loro è meglio che tu riceva i soldi per non coltivare e per sradicare gli alberi piuttosto che salvare la natura c'è un progetto stabilito e a questo bisogna ribellarsi perché se tu non lo capisci che ti stanno togliendo il terreno di sotto sappi che non avendo una casa gli uccelli volano in cielo cosa farai allora è illogico ragionare che butto il mio cibo per comprarmi quello degli altri tenendo presente che questa logica di oggi anche nelle altre nazioni la stanno già conducendo allora vuol dire che saremo tutti come i cinesi che loro mangiano queste schifezze da una vita e che saremo tutti come i cinesi perché proprio dopo sto gran casino come dice la Madonna il comunismo si affermerà più forte di prima e attraverso chi che il comunismo lo ha generato già come dittatura solida perché la Cina cari amici è amica dell'orso e allora in questo momento gli scenari sono chiarissimi per tutti quindi appena ci si muove in maniera sbagliata zacchete che ci viene sopra la grande trave ora noi piccoli del mondo che non capiamo né di storia né di geopolitica io dico beati voi perché quando ne viene investita hai finito di vivere non vivi più la tua è un'altra vita una vita come dire prestata e che Dio desidera in te lavorare per aiutare gli altri ma è una vita devastata non fatta di tanta di quella roba tanta di quella realtà che a volte è soffocante e quindi tu conciliare la tua natura umana con le tue umane lotte interiori con quelle che sono quelle spirituali capite che potrebbe essere se non ci fosse la mano di Dio una follia allora amici noi piccoli cosa possiamo fare ubbidire noi non siamo chiamati da Dio a capire le grandi cose lì ci sono anche quelli dotati pure di una grande intelligenza lo possono fare ma io parlo di me come di voi di tutti quelli che ogni giorno il signore ci fa incontrare noi che siamo popolo che appunto siamo ignari di tanta roba come possiamo seguire rispetto a Giuseppe e Maria questa rivelazione che ci è capitata nelle nostre case innanzitutto ubbidendo la Madonna allora non ci sono devozioni che ti salvano non ci sono apparizioni che ti conducono in paradiso lì sta la tua fede e come un papa può cadere andare all'inferno come una suora pur avendo dedicato la sua vita a Dio può finire nella parte più bassa dell'inferno come una qualsiasi donna che ha prostituito ha voluto farlo così lo fa un'anima consagrata anzi cari amici io voglio in questo e desidero veramente chiudere ricordarvi che lui Giuseppe abbiamo voluto vestire in questo modo Gesù trasformarlo come che ho fatto con il dito lui Giuseppe anche terrore dei demoni però è anche un grande salvatore della gente che si trova in purgatorio e guardate cari amici che quest'anno parlerò molto di più del purgatorio ovviamente basandovi sulla mia esperienza personale perché poco si sa del purgatorio allora tante persone ci vanno a finire molto velocemente parlo di quelle persone che sono morte ma perché hanno sbagliato il cammino perché andare in purgatorio non è una passeggiata cari amici e sapete come tante volte vi ho spiegato che in purgatorio ci sono tre livelli delle dimensioni e ci sono delle dimensioni in cui nessuno ci può entrare se non la madonna stessa oppure delle anime particolari dei santi particolari che Dio ha destinato per salvare quelle persone e che ci sono delle zone in cui non si riesce a entrare per quanto ancora persino il demone nella parte più bassa del purgatorio può tormentare le anime ancora per molto tempo quindi è bene che capiamo tutte queste cose qua perché facciamo noi come anche gli altri santi degli altri secoli dalle rivelazioni un come dire un ingresso per la vita della salvezza quindi non leggiamo i messaggi come per dire ma adesso la madonna appare dappertutto intanto lo sapete che c'è più della metà delle apparizioni che vengono dichiarate tali che sono false non palesemente ma proprio false fatte a tavolino o per follia umana e vanagloria oppure procurate proprio dal demonio quindi attenzione anche lì quando noi andiamo a leggere che cosa ci beviamo cosa leggiamo perché se intendiamo male e distorciamo e diamo per buono qualche cosa che non è vera attenzione che il demonio è furbo e comincia da lì tutto un giochino di situazioni per cui poi senti che si diventa scomunicati si comincia a gridare contro il papa si comincia a dare di testa si comincia a giudicare tutti gli altri perché se stessi il papa lo salva dio non lo salviamo noi dunque attenzione a chi continua sempre sistematicamente penso che ormai abbiate anche capito no quanta gentaglia c'è in giro che continua sempre con questa opera di devastazione tu devi pensare a quello che devi fare nella tua chiesa nella tua parrocchia dentro la casa tua e non crearti altre comunità satelliti dove il diavolo smonta da un posto e viene nel tuo perché oggi più di ieri è facile alzare comunità religiose dove il demonio può entrarci con tutte le scarpe e voi immaginate se si vengono a creare dei conventi delle istituzioni religiose con il diavolo all'interno che cosa ancora può accadere che si genera un tale scandalo e una tale condizione che diventa quasi una follia allora noi dobbiamo abbiamo anche il compito di arginare tutto questo allora tutti quelli che anche in giro se ne vanno a fa di qua di là di su di giù e mischiano le apparizioni mischiano i contenuti tutti sono vere sapete qual è il rischio che alla fine siccome tutti sono veri poi tutti sono falsi e quindi la gente comincia a non capirci più nulla perché attraverso una logica sottile tutto diventa il contrario di tutto e allora mi posso bere tutte quelle scemenze come quelle che sentiamo in tantissime situazioni perché la dottrina della chiesa non cambia se un papa sbaglia se una parte di chiesa dà ad una preghiera un altro senso un'altra interpretazione non importa io ve l'ho sempre detto passato quel tempo la preghiera sarà ripristinata e non si ricorderanno più di chi ha fatto quell'errore ma noi cristiani nel nostro piccolo abbiamo questo dovere sacrosanto di essere tutti quanti in allerta laddove non ci sono verità e la verità tutta la si costruisce ogni giorno con il nostro vivere bene se io vivo nella falsità quanta gente dice mettendo a confronto le apparizioni ma io vivo a me giugori e a me giugori siccome è vero allora anche io sono nella verità no se tu vivi a me giugori e vivi male tu non ti salverai perché non è uno status un luogo ma è una concezione interiore quindi a me giugori come in un altro luogo a san giovanni rotondo ci possono essere dei satanisti che ci abitano e che rovinano quei luoghi allora cari amici attenzione preferisco nessuna comunità che una vagliata preferisco dieci famiglie buone e non una comunità malata quindi cerchiamo anche di fare cammini veri seri di umiltà è una parola che non conosce il demonio e l'umiltà tutte le volte che noi sentiremo racconteremo storie sappiate che di tutte le storie che potremo sentire dove ci viene con l'olfatto e l'orecchio e la vista di ascoltare storie di umile semplicità allora capiamo che lì il demonio è impossibile che esista ma se troviamo gente che di fronte a noi ci parla del vangelo ma egocentrica è l'esatto contrario di quello che vi sta disegnando quando con il suo volto il suo cuore la sua vita è il contrario di quello che vi sta dichiarando abbiate questo sentire interiore di dire a me non piace questa cosa e salvatevi perché la coscienza che dio vi pone con il battesimo seppur fosse la più addormentata è il campanello che dio vi sta indicando perché non cadiate in certi disgraziati fatti e voi capite che manduria è stata una di quelle apparizioni che ha subito tanto le false apparizioni appena manduria iniziato ci sono stati centomila intorno alla fine tutte sono false allora anche manduria è falso tempo ci vuole e si capirà tempo perché il tempo si dice galantuomo e restituisce alla sua propria originale storia da dove è venuta il tempo dirà se questa apparizione era un fondamento umano o piuttosto un fondamento divino se è stata una progettualità di uomini la vedo dura è difficile data la materia prima che sta qua dentro oppure un progetto grandioso del padre che ha voluto creare questi satelliti di grazia perché se è vero che verranno dalla viabbia dritti 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 cioè faranno quella strada e diciamo non è un'interpretazione ma sarà di falso abbiamo la vergine ocarestia si è venuta appunto a mettere qua perché loro verranno dritti dritti e toglieranno faranno proprio ori a manduria e speriamo che non passino dalla cattedrale oppure che l'abbiano svuotata prima ma immagino di sì che saranno i primi a scappare però quando verranno dritti dritti ci sarà una signora che ha detto vengo qui per salvare l'Italia e quei giorni me lo dovranno venire a raccontare se sarò viva chi la salverà quest'Italia perché o la salva lei o non la salva nessuno ed è certo e lo sappiamo che solo un intervento di Dio occorrerà perché tanti di quegli scenari non diventino tanto devastanti da che non rimanga più nessuno siccome il Signore ha da continuare con i nostri bambini a ripopolare questo mondo lo sappiamo che tanti di noi non ci saranno più inutile dirlo allora Signore dacci la forza che seppure tu vuoi dal martirio spirituale manduria è pesata parecchio eh fin qua ha forza e martirio fisico di essere capaci in grado di sostenere questa battaglia cioè che il nostro io interno e io fisico sia completamente arreso alla tua grazia come Giuseppe e Maria hanno fatto se riusciremo a dire amen potremo fare tutto quello che vogliamo dice San Paolo tu ami e di amen a Dio e Dio ti farà fare dei voli che tu non immagini ma se al contrario faremo i cosiddetti economisti con Dio la somma è sempre zero quindi vi chiedo e vi prego di abilitarvi a cominciare con le tabelline perché con Dio non torna mai niente tu sei sempre disponibile quando hai dei problemi rivolgiti a lui con l'eleganza dello spirito sapendo che il tuo papà del cielo sa tutti i guai che porti dentro nella testa tutti quelli come dire quelle ombre che ti hanno come dire occluso tutte quelle arterie che mandano l'energia no sappi che Dio interviene come un medico ma se lui non lo sta facendo sono due i motivi uno che la tua malattia gli serve per la sua gloria due e quindi che diventi umile e in quella strada ti salvi due non è detto che lo faccia più in là allora nel frattempo in cui Dio sta giocando tra virgolette e sta decidendo come sarà il mio cammino mi devo da fidare santa popolo santa gente ma se troviamo questa gentaglia qua che ti dice tanto io faccio senza Dio ci troveremo quelle scene tanto io senza Dio posso realizzare per esempio un'Europa che doveva essere un sogno dei padri i popoli uniti contro l'isla invece abbiamo costruito un'Europa e se li ha regalati dentro casa gratis quindi carine avendo capito che hanno fallito su tutti i piatti da un punto di vista intellettuale riconosciamo di aver fallito e allora questi filantropi che non so è un nuovo lavoro perché io andavo al geografico e sapevo che ogni aggettivo attribuzione aveva un senso adesso i filantropi sono milionari cioè sono degli imprenditori mascherati da filosofia non ho capito perché non mi risulti che Birghezza abbia tuzzata grande scienza nella testa però hanno il potere il potere di questi e di piccioli dicevano della Sicilia perché con i piccioli e con il sesso li hanno sodomizzati tutti e conquistati e quindi con i soldi e con il sedere sono arrivati dappertutto ecco finito questo tempo in cui giustamente anche la sessualità santificata da Giuseppe e Maria in un momento terribile come il nostro in cui la famiglia è crocifissa anche da questo punto vedere il sesso come un uso contro la sacralità dell'uomo e quindi l'omosessualità è l'ideologia del demonio capite attraverso questo si spinge l'uomo a desacralizzarlo tu uccidi la vita quindi uccidendo il bambino uccidendo l'uomo uccidendo la parte sacrale che è la vita che si riproduce nell'uomo e nell'umanità usando il tempio di Dio che è l'uomo avendolo così squartato scompaginato cosa resta dell'essere umano resta un fantoccio resta uno senza anima anzi con un'anima regalata al demonio e quindi per il reso peggio dell'animale allora cara gente chi siamo noi dove andiamo speriamo che sia chiaro che dopo anche quest'attacco alla famiglia e l'accettazione del peccato che è diventata una cosa normale adesso io sono spinto dove verso il peggio che è la perversione di tutto e nella perversione satana vuole fare affogare il mondo intero ecco che la madonna ci chiama all'esatto contrario cioè digiuno anziché mangiare sacrificio anziché godere castità anziché e quando dico castità non intendo che il marito e la moglie non debbano incontrarsi ma intendo sappiate comprendere che l'amore si fonda prima sulla tenerezza e poi il toccarsi il toccarsi diventa un effetto di quell'amore ma se quell'amore non c'è conviene manco toccarsi più allora non sporchiamo e intendiamo costruire bene nelle nostre famiglie perché questo la famiglia lo sente non si arriva ad un divorzio se non con la partecipazione di tutti e dentro la famiglia i figli spingono da una parte i coniugi uno contro l'altro ed è un qualche cosa una dinamica chiamiamola così di perversione che non sappiamo a un certo punto perché ci travolge da dove è partita ed è semplicemente un uso esteriore di quelli che sono i membri della famiglia io sfrutto te tu sfrutti me alla fine non è una famiglia di gente che si ama e si aiuta ma dei nemici chiusi là dentro e allora questa pandemia perché vogliono chiudere di nuovo tutti a casa non so se l'avete capito perché devono chiudere attenzione chiuderanno quando quando devono al popolo deve star zitto perché la guerra sa da fare allora se non ci chiudono non chiudono i popoli come fanno i contadini uscire allora è chiaro che loro debbono intercalare con queste chiusure perché il popolo lo devono sottomettere e allora è chiaro ci sono dei tempi e delle date già segnate scritte quindi tutti questi bellini che fanno le comparse davanti alle sceneggiate del mondo sappiate si sono dati tutti al demonio chiaramente il demonio gli dà laute glorie allora amici miei la storia racconta di quelli che sono passati prima di questi sarà la stessa cosa allora concludo dicendo adesso che mi ha molto fatto sorridere uno che diceva su un tic toc rivolgendosi alla meloni chiamandola biondina con le ocche a palla mi ha fatto ridere ma sentendola mi ha fatto più specie quando diceva tu e l'amichetta tua la borderlier perché quando si incontrano si vestono anche uguali capito c'è anche un simbolismo di rosa che loro sono le femminucce che comandano hanno fatto i conti con il popolo però e il popolo quando tiene fame ti scanna allora cari amici la sovranità appartiene a dio le repubbliche agli uomini terminato questa meditazione chiediamo e spero che nei prossimi giorni abbia della possibilità di riscoprire belle preghiere antiche della santa famiglia una volta venivano a casa ma non verranno più state tranquilli quando vi benedicevano le case vi regalavano le cosiddette preglierine della benedizionale ma non ci vengono più perché non si capisce hanno talmente tanto da fare nel sociale il sociale siamo noi se tu lavori per me perché non ci incontriamo mai ma lascia il sociale il sociale è tutto un promiscuo noi in cui pur di non fare il prete faccio di tutto pur di non essere prete cerco di giustificare tutto allora io non voglio il prete che gioca a carte e non voglio il prete che va su tiktok e mi dice come Gesù è bello e fantastico voglio un prete che sta nel confessionale perché tu prete sei stato fatto da dio per questo caspita di problema il peccato della gente se io volessi essere assolto e non ci sei tu prete nel confessionale come faccio io poi a salvarmi allora quando arriverai da Gesù Gesù ti dirà che tu per il sociale non hai fatto niente allora ricordati caro sacerdote che essere prete è come Gesù tu sei fatto per essere il calice di Maria per essere il cuore eucaristico del padre per i fratelli se tu prete non farai questo tu prete non sarai prete e sarai meno del meno dei figli del diavolo salutato Gesù Cristo